Ok ragazzi, in questo episodio non ci sarà manco la cam, non c'è voglia di insomma metterla, a questo punto tanto dovete solamente vedere come si fanno le magnus e ve le mostro. Credo che comunque sono tante andremo più veloce, ma poi la cam fa anche pesare il più il gameplay, la mia connessione fa schifo quindi a questo punto proprio ciao per queste quest. Continuiamo, parliamo col tizio qua, ci butta dentro il magnus. Una volta arrivati a questa quest vi lascio qui inutilmente, dovete andare a Calfeon, cioè siete già a Calfeon ma dovete andare alla Gabino Farm. Non so perché questa scelta, buh strana comunque, e buttiamoci dentro Gabino Farm. Poi una volta qua dentro, va bene, non capirò mai sta cosa, dovete usare la Bissan Vein Media, questa che ha tre le lune, ripeto non so perché di questo roba non ha senso, e una volta qui andare alla prossima farm. Comunque è facile, andate alla fattoria vicino di Calfeon, scelete nel magnus, prendete il portale per media e poi prossima farm. Eccoci, interagite fuori, prendete la quest Magnus dentro il pozzo. Continuiamo con gli enigmi ragazzi, fammi schippare, qua semplicemente dovete semplicemente calciare una talpa. Quello che dovete fare è solamente uccidere la la, la la tappa, la la, vabbè, la TF Mule, cioè la la la, è impossibile da dire, la talpa ladra, TF, non la Smule. Andiamo avanti, aspettate che spavano, prima o poi uscirà fuori, non schierate le Smule. continuiamo quando ci avete cattolare un cavallo vi spiego per chi non sapesse come si fa è molto semplice prendete il zucchero quello che vi serve su inventario con la i prende la corda aspettate che il cavallo sia a tiro quando diventa rossa d'icona va bene dai fai iniziamo male non troppo vicino muovetevi in avanti appena lui alza le zampe vi fermate aspettate lo space iniziate a spammare basta che state sopra la metà se avete già 14 cavalli questa roba vi sembra facilissima continuate ad avanzare verso di lui occhio quando alza le gambe space andate molto vicino al cavallo e domatelo fine se non riuscite provate ancora ancora è così comunque che si fa però non so perché il gioco non ti va scendere dal cavallo quindi dovete muovere col cavallo per forza dai salta sacchetto di merda vediamo con buccio che sta qua sopra ah questa è proprio simpatica io l'adoro questa quest madonna quanto è divertente bisogna trovare un flare però c'è un problema sono le barche che arrivano se li scoprono ma ammazzano quindi a tempo un giro è questa migliore che fa ecco vedete appena si avvicina nascondetevi con un bel cino quindi premete q e dovete solamente cercare di capire dove si trova il flare sappiatelo non è detto che si trova nella stessa posizione in cui si trova a me sta un po allontanando è apparsa anche l'altra barca giusto perché deve rompere i coglioni trovato occhio alla barca andate poi qua sopra quando trovate il flare è sparato fine vuce qua sotto vi dice andare a valencia altro portale sbloccato interagite con le impesi fuori vi porterà per campi prendete in caso il cavallo sono vicini comunque 1 2 3 ritornate indietro si continua andata verso l'altro pozzo entriamo cerchiamo avuscio che si trova qua sotto il coglione se scale si continua questa è molto facile parlata con lei black spirit e poi di nuovo lei andata sopra dovete salire di un po parte con la scritta cercato adesso una luce attaccata al muro scendete di nuovo eccola nota qui andate qua sotto permette questo già attraverso sinistra riservi che sopra sarà apparsa una strada invisibile continuate completata da quest adesso invece dovete chiedere questi nemici che spawn anche questo qua sotto e ancora sotto presi rete sopra e qui provate a muovere ma se le tente rotti sicuramente da nemico chillatelo ok vi fate a sinistra nemico ancora perfetto sarete sopra la secola scritta adesso se l'ho sponato qui un tizio andate subito mi ha fatto un predict perché sono di base ci sono le cose da schivare ok parte con la scritta sopra questa è l'ultima parte scendete sperano dei mob non fateci caso potete anche non in cular veli e qui c'è un galletto senza quella di mob tanto ripeto non mi frega nulla scendete qua sotto dal galletto aspettate che vi crea delle piattaforme molto lentamente adesso muovetevi attraverso queste piattaforme non spammate la doppia v cliccate poco a poco piano piano piccoli tocchetti è finito scendete sotto dato e ciao non mi mostro sempre che parlo qui in pesia e tanto sapete cosa fare si prosegue questa questa è molto facile bisogna solamente ora un minimo di timing appariranno dei fulmini e dovete semplicemente andare in centro per non essere colpiti adesso ve lo mostro così è più facile forse a vedersi che a dirsi spostatevi sempre più verso il centro 1 2 3 ancora una volta mentre i fulmini si avvicinano iniziate a spostarvi sempre di verso il mezzo a posto gatto via questa porta da queste più semplice perché non è manco un indovinello nel nulla semplicemente dovete tra virgolette resistere all'attacco dei nemici un'altra sono la pippa non mi fanno nulla killateli e basta dovete resistere circa due minuti per qua spanne il cazzo di rocco killatelo la telecamera impazzirà è normale finito andiamo amicio altro portale sbloccato adesso ci manda a camasilvia parliamo con questo entriamo qua a questa è la questa è più idiota che esiste letteralmente un impc che ci aveva di parlare spammate altre risposte ogni tanto diverse finché non va avanti è una spam di area questa questa finita ciao grazie prossima questo è semplice dovete solamente stare un po attenti è molto semplice prima regola non toccate l'acqua attraverso il mente cioè per muovervi usate solamente le pedale è molto facile il giallo dovete portarlo al giallo ma cercare di colorare più piattaforme possibili non potete ripassare sulle stesse piattaforme con un altro colore dai ma che cazzo dove passare qui ma l'abbagata scuola ritrai esempio giallo sta laggiù faccio questo percorso non toccate l'acqua toccatela solamente attraverso queste piattaforme lasciate la sfera poi il rosso sta laggiù lasciate la sfera perché questo non ha colorato dio mio il blu ecco da quando potrei passare con il drone indietro mi sono chiuso la strada no scusa sono imbecille li percorriamo sulla gialla è una gialla lì a posto andiamo qua via ok siamo libreria parliamo con questa tizia che ci chiede conosci il libro paradise of dragons continua le storie bla 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 ok poi ci chiede in che categoria il libro ok paradiso dragon eccolo che qua sopra ed è nella categoria wine del lightning poi ci chiede se conosciamo il libro solution e low supply poi ci chiede qual è la riga più citata se non c'è il pane allora torta questa è la risposta wow l'ultima quindi poi ci chiede se abbiamo mai letto il libro record of the moon la besti cazzi la risposta è everlasting glory of the weather viola questa qua insomma a posto ciao ci fa andare a dragon ecco la testa punto ragazzi l'ultima parte si credo che abbiamo praticamente finito ci manca l'ultimo video al massimo ma vi dico quante queste ci mancano 27 calcolate che l'ultime 10 sono praticamente tutto talk come se ne mancassero l'ultime 10 15 in un video ce la faccio sicuramente mi raccomando supportate il canale supportate questa serie di video non c'è stata forse frase più vera come in questo caso del lo faccio per voi e ciao ti consiglio di guardare altri video fallo